Longevi ma sofferenti a causa di qualche malattia cronica e con dolori fisici che ne limitano la qualità della vita. È l'Italia che invecchia, quella fotografata dal sedicesimo rapporto Serva Salute 2018. Sono 25 milioni gli italiani che hanno una patologia cronica, di questi la metà è afflitta da molti cronicità. Di fatto noi abbiamo ridotto la mortalità per malattie come il cancro e le malattie cardiovascolari, quindi queste sono molte buone notizie. Le cattive notizie è che siamo un po' preoccupati per il futuro, perché questi nostri anziani di fatto, soprattutto nel sud, non hanno un'assistenza adeguata e quindi passano una parte consistente della loro vita, soprattutto gli ultimi anni, in condizioni di non buona salute. L'Italia invecchia male. L'80% della spesa sanitaria infatti è per la cura delle malattie croniche. La spesa sanitaria è ormai insufficiente per i bisogni del paese. Di fatto gli ultimi anni hanno segnato una riduzione di fatto della spesa e questo non riesce a soddisfare i bisogni di una popolazione sempre più anziana. Un italiano su tre è in sovrappeso, uno su dieci è obeso, molti sono bambini. Non cambiano poi le abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e alimentazione scorretta. Il rapporto lancia infine un allarme rosso per la mortalità causata dalle infezioni ospedaliere. 49 mila sono le vittime ogni anno per questo motivo.